E forza Italia verso il PD alle prossime elezioni politiche. La politica di Matteo Renzi è caratterizzata da quello che in termine politico si chiama Realpolitik e non c'è nessuna differenza sostanziale tra la politica del PD di Matteo Renzi e la politica di Forza Italia di Silvio Berlusconi. Siccome le previsioni danno il Movimento 5 Stelle come vincente, alle politiche, lo dicono i sondaggi, si creerà una grande alleanza o esplicita o implicita alle prossime elezioni politiche. Per cui se l'alleanza sarà esplicita avremo una alleanza da Realpolitik tra Forza Italia e PD. Se l'alleanza sarà invece implicita, occulta, avremo un grande spostamento di elettori di Forza Italia e verso il PD e ormai la battaglia è contro il Movimento 5 Stelle. Per arginare l'avanzata del Movimento 5 Stelle è inevitabile che il PD e Forza Italia si alleno o in maniera esplicita o in maniera implicita. Realpolitik. Vedo e prevedo, cari amici. Il tempo è galantuomo e dirà se le mie sono previsioni esatte o previsioni sbagliate. A tutti, tanti cari saluti da Serafino Massoni. A tutti, tanti cari saluti.